good morning si qui diciamo sono le 11 come dico in questi casi certo una mattina prestissima mattinata inoltrata comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's april 21 2022 and it's a tuesday here in naples cloudy dark cloudy anzi gray cloudy morning but it is still right now 71 and 6 celsius around 22 22 celsius around 71 and 6 farinat and this means that it's that day really 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 soft like in these days and this period and secondo me anche also over that spring climate because come gradi appunto sembra più un'atmosfera anche stiva secondo me leggermente stiva quanto con c'è nel video sui pensieri as always i do separate separate from this quindi nel caso interessa occhio anyway i see and you will just see from the window non so se è sempre visibile penso di sì comunque i think the temperature potrebbe scendere in qualche grado ma non lo so ovviamente siamo mai dei maghi su questo vedremo but the important thing in a negative point purtroppo is that absolutely i don't i penso che don't think che we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine con questo tempo la vedo veramente dura come dico la mia frase caldo ovviamente le cose posso sempre cambiare un momento all'altro battasolo e si will si infatti battasolo e si will si però francamente mi sembra un po impossibile vedremo però non ci possiamo lamentare che in tre quattro giorni scorsi anche abbiamo avuto sempre beautiful blue skies and golden sunshine per cui say the disease so from this other mythical window with the white curtain the pink flowers and the gray roller shooter not visible but also ma se fosse sempre lì from the mythical window with the red orange blue green water curtain and this green roller shooter behind me on the top not visible in fact in the shot and finally from a mythical keyboard di amadi gx 640 ipg 625 eva great day him all the people follow the 100 reports un saluto davvero a tutti and also i o più all eva great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco brontola non so se lo sentite sì per cui ci vediamo al video toz nel caso lo faccia domani